E' stata una grande serata a Terranova Bracciolini dove si è festeggiata la conquista della Serie D un risultato storico, mai la società valdarnese bianco-rossa era riuscita a salire così in alto nell'Olimpo del calcio nazionale oltre 400 persone in piazza con il sindaco a dettare le danze e via via sono stati chiamati i protagonisti di questa stagione prima la società e poi tutti i giocatori, emozionatissimo Simone Calori che ha ringraziato tutti coloro che hanno costruito questa grande impresa ma sentiamo le parole del sindaco Sergio Chienni e quelle del presidente Mauro Vannelli C'è grande soddisfazione per il risultato che ha conseguito la squadra della sua città C'è una felicità immensa perché era un risultato all'inizio impensabile invece l'impegno, la bravura degli atleti e dello staff tecnico hanno permesso di ottenere un risultato veramente permettetemi di dirlo, stratosferico per i nostri livelli Nella prossima stagione inizierà il campionato qui in casa? Noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per muoversi celermente sicuramente ci siamo, metteremo a disposizione le competenze e risorse per farlo in collaborazione con la società Mauro, cosa ha provato lei il 20 giugno scorso considerando tutto quello che è accaduto nel passato? È difficile descriverlo perché se penso che abbiamo cominciato in un campetto tutto infangato e ci siamo costruiti nelle nostre mani e poi siamo andati su su e quando abbiamo visto categoria per categoria la preoccupazione è stata sempre notevole però arrivati a questo punto dove abbiamo una società veramente di gente che mi dà una mano e che collabora veramente a questa società è indescrivibile la gioia che abbiamo provato perché vincere un campionato, arrivare ad una serie così importante per me è stata una gioia indescrivibile non si può descrivere